Eh niente, il fucile è un devastatore, se si fanno vicini abbastanza. Si è stanzata a mettere il devastatore. L'ha tolto. Questo è che l'ho già usato, il devastatore. Buono. Non glielo ne ho guardato. Ma, 101 colpi. M***a, però che mobilità del cazzo non è fatta. Controllate l'attrezzatura. Stringhe allacciate, cerniere chiuse. Preparatevi, gente. Credività, ma la scone. Scute. Scute. Sperto. Scute. 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 a scaricare un joystick Ok, ok. 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 No, vabbè, c'è un'altra roba Se cazzo è felice di intelligenza, se cazzo continua Se metti davanti è un cazzo Allora, vabbè, coltisco e non voglio Se cazzo è felice Se cazzo è felice Eh, vabbè Tre volte l'ho colpito, poi cazzo è felice Se cazzo è felice Se cazzo è felice Se cazzo è felice Ma io che cazzo Questa è un'altra roba Questa è un'altra roba Ma crederevo ora che non hanno capito gli armati Si stanno ritirando Vittoria! Consigliezza con i reni! Non eccitarti troppo. Sono ancora a porto. A rapporto, sergente. Coronel, i feriti sono stati allontanati dalla zona di fuoco e portati al punto di evacuazione. Ben fatto. Riorganizzatemi e preparatemi. Ci riproveranno da un momento all'altro. Sì, signore. Non si è giusto che non ti è in questo modo. Bello! Grazie a tutti 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 Visto che abbiamo perso il D6, la nostra unica possibilità è distruggerlo Conteso di noi, signore Al diavolo Nessuno vive in eterno E questo cos'è? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ah, l'ingegnoso giovane, l'ingegnoso giovane, l'inniartium, salvatore della metro Non avere paura, non c'è n'è motivo ora Grazie a tutti Ed è così che il tuo papà ha sconfitto i nemici e salvato la metro Il mio papà era coraggio, il mio papà era coraggio, il più coraggio di tutti perché non aveva paura di affrontare le cose che non capiva E dove è andato il tetro, mamma? È andato via, è andato via in un posto sicuro Ma ha promesso di tornare E' andato via in un posto sicuro 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 E' andato via in un posto sicuro